Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Marina Del Grosso ha lasciato X Factor suscitando molte opinioni, soprattutto dopo il confronto con Paola Jezzi. Manuel Agnelli l'ha definita spocchiosa e la sua eliminazione è stata giustificata per fare spazio a una rapper considerata più spettacolare. Dopo alcuni mesi Marina ha condiviso i suoi pensieri su Instagram, esprimendo la sua gioia per essere stata una delle audizioni più viste della stagione. Ha sottolineato che partecipare a X Factor era un sogno che coltivava fin da bambina, quando seguiva le selezioni su YouTube. Inoltre, Marina ha commentato le osservazioni sulle interpretazioni delle canzoni fatte da Agnelli e altri giudici. Ha invitato a confrontare la sua performance con l'originale di I Put a Spell on You di Screaming Jay Hawkins, sottolineando le differenze di stile rispetto alla versione di Nina Simone. Marina ha difeso la reinterpretazione dei brani come una forma di originalità e visione personale, esortando a non attaccare gli altri per giudizi soggettivi. La cantante ha anche parlato della lotta degli artisti senza supporto nel mondo musicale, dove spesso prevale l'immagine a discapito del talento e della preparazione. Marina ha manifestato la sua intenzione di dare voce a tutti gli artisti dotati di talento che lottano nel vuoto, sottolineando la mancanza di valore dell'arte autentica in contesti come X Factor. Infine, Marina ha espresso la speranza di un riscatto e una rivoluzione nel mondo della musica, invitando alla consapevolezza e al coraggio di esprimersi. Ha criticato X Factor per esaltare l'immagine a scapito delle competenze e ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta. La cantante ha concluso affermando che non è sola in questa lotta e che la musica continuerà a essere la sua voce, nonostante le difficoltà incontrate in programmi Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!